Ferma la Siecortona in attesa dei quarti 11 aprile a Siena gara 1, in A3 si chiude il primo capitolo con un superpineto ritrovato in gran forma, l'Abba travolge 3-1 secco e netto la capolista Grottazzolina che non perdeva in trasferta dal 20 dicembre, anche se poi i marchigiani sono rimasti in testa per il clamoroso carachiri del Galatina, Elde Partenio stelle del big match, ma quasi tutta la squadra girato come nei momenti del filotto da 11 successi, Noto è felice in vista dei playoff, gara 1 l'11 aprile a Pineto contro la Versa, è felice e mister Rosichini a fine gara. Sì, una buona gara, siamo partiti un po' contratti, avevamo di fronte la capolista che... Che veniva da una serie di vittorie consecutive. Sì, che ha giocato chiaramente molto bene, noi ci siamo un po' sciolti dal secondo set, cominciando a difendere un po' di più e questo ci ha dato convinzione, poi è chiaro che è una gara di fine campionato in cui anche Grottazzolina cercava di preservare certi suoi atleti, come abbiamo fatto noi con Morelli in vista dei playoff, e quindi però sostanzialmente è una buona situazione. In B vincono le Abruzzesi, 3-2 chilometrico per l'Alba Adriatica sul Potentino, 3-0 del Paglietta del Prof. De Angelis a Lucera. In B1 femminile, impresa alla grande dell'Altino a Sant'Elia, un 3-0 di classe pur senza Costantini e Saveriano, e ora si punta molto in alto. Non ce la fa uno sfortunato e generoso Chieti contro la capolista Casal De Pazzi, una 3 che non corrisponde a quanto visto in campo nelle immagini. Domani approfondimento nella settima puntata di Pallavole, ora 21.30. In B2, infine, altro exploit di una Rabona subito ritrovata nella sua versione brillante. Nelle immagini cadono a sorpresa il Teramo in casa, secondo pronostico il Pescara 3 in trasferta, entrambe 0-3, K.O. comunque in influenti. Appuntamento a fine aprile per il secondo atto.